Alla voce esportazioni, il 2023 ha segnato un calo dell'1,4% per la marca trevigiana, attestandosi a 15 miliardi 668 milioni di euro, a fronte di una riduzione a livello veneto dello 0,7%. Non è una sorpresa, ripeto, nel senso che era previsto naturalmente in linea con le attese. Ovviamente è vero che rispetto magari ad altri territori del Veneto certamente il dato è meno rassicurante. La situazione trevigiana va letto guardando all'andamento dei distretti che rappresentano il cuore produttivo della provincia, uno su tutti quello del legno arredo, che conta 1500 imprese di cui 1000 artigiane, che insieme agli articoli in paglia intrecciati registra un calo dell'exporto del 9,5%, a condizionare questo, come altri settori, la guerra in Ucraina e le sanzioni alla Russia. Abbiamo visto anche imprese fallire, insomma, non serve fare nomi, ma insomma abbiamo visto anche imprese anche associate al comparto generato purtroppo che hanno chiuso perché avevano, pur essendo estremamente in salute, ma erano focalizzate solo sul mercato russo e quindi non sono riusciti a riorientarsi in tempo, a riposizionarsi su altri mercati. Anche il conflitto in Medio Oriente incide soprattutto sull'aumento dei costi di trasporto per la componentistica con le navi costrette ad allungare i loro viaggi per evitare gli attacchi nel Mar Rosso. In generale a pesare negativamente sono soprattutto i mercati dell'Unione Europea post-Brexit, dove il made in Treviso è sceso dell'1,5%, anche in questo caso con una performance peggiore rispetto alla media veneta. Ma il rallentamento delle esportazioni non riguarda solo la marca, è evidente in tutta l'area UE, spiega Fiori. In questi giorni ad Hannover per la fiera della meccanica e dell'automazione. Qui in Germania, uno dei nostri mercati principali per la manifattura, si tocca con mano la crisi dell'export e lo si vede anche dal flusso di visitatori, ridotto rispetto agli anni scorsi, chiarisce l'esponente di confartigianato. È chiaro che c'è un rallentamento consolidato purtroppo in Germania ed è naturale che tutti i settori che in Italia sono trainati e agganciati nelle filiere ovviamente di produzione della manifattura, che sono agganciati alla Germania, ne risentono.